Il primo festival di San Michele nel comune di Aprilia, ecco qui Francesca Michelin. Ciao a tutti. Ciao, che emozione hai oggi a rappresentare e a essere il primo festival di questo comune di Aprilia? Beh, sono molto contenta perché è una situazione molto bella, ci sono molte persone anche durante il soundcheck, sono stati molto calorosi. Sono felice di suonare insieme a Renzo che è un mio caro amico e che stimo molto e quindi spero che questo concerto vada bene, che tutti si divertano e passano una serata piacevole. Sicuramente sì, abbiamo visto tantissimi due fans qui fuori che stanno già accampati e che ti aspettano. Dici qualche progetto imminente? Beh, attualmente sto lavorando al mio prossimo disco, insomma stiamo scrivendo i pezzi, siamo molto contenti del lavoro che sta venendo fuori, quindi a breve lo sentirete. Perfetto, noi attendiamo tutti con ansia, ti ringraziamo e due parole per questa festa? Beh, io spero che questa festa si riproponga perché è molto bella e voglio fare i complimenti a tutti per averla organizzata così. Ti ringrazio Francesca e complimenti veramente di tutto, sei veramente una bravissima artista. Grazie, buona serata. Ciao a tutti.